Sì, è un momento sempre molto bello quello di un'inaugurazione di una sede di un partito come quella di stasera perché mette insieme tante persone che si impegnano per il territorio. Quindi non è solo una piazza virtuale, che anche quella è importante ormai, ma una piazza reale dove potersi incontrare di persona, scambiarsi delle opinioni, condividerle e portare avanti anche delle idee perché queste idee possano poi realmente trasformare la nostra regione. Noi guardiamo sempre pensando ad un progetto, a un qualcosa che possa modificare anche in meglio la nostra terra, portare nuova ricchezza, un nuovo sviluppo, non soltanto idee generiche, ma un progetto legato alle varie identità territoriali perché la Calabria ha grandi risorse, grandi potenzialità che possono essere attraverso un'azione di sistema mirata adeguatamente valorizzate per portare più lavoro, occupazione ai giovani e anche una prospettiva di crescita che fino ad oggi non è avvenuta. Alla base ci sono le idee, c'è la condivisione delle idee e poi si parte anche con queste idee per portarle avanti. Grazie.